Ben ritrovati gentili amici del canale Gianluca Rossi TV, canale YouTube, allora per quanto riguarda l'Inter, Lautaro Covid, quindi Lautaro bloccato, non può partire per l'Argentina, ci parte invece Correa, quindi due argentini si dividono e non è detto che Correa magari non recuperi un po' di condizione se dovrà prendere il posto di Lautaro, comunque Lautaro non va in Argentina, molti magari sono contenti di questo, ma attenzione avere il Covid non è mai una bella cosa, anche perché non è che poi ti negativizzi subito, alcuni non si sono, pur non stando male, non si sono negativizzati velocemente e poi soprattutto quando sono ritornati all'attività fisica hanno comunque avuto, pensiamo a Belotti, pensiamo a Di Bala, Di Bala tra poco ne parliamo, non hanno poi avuto la stessa resa pre-Covid, quindi auguriamoci naturalmente che come sempre più persone il Covid passi senza lasciare particolari strascichi su Lautaro, Lautaro certamente non va in Argentina, è qui e però bisogna vedere quando diventerà negativo, intanto è stata fissata la data delle prossime due partite dell'Inter, ma è stato confermato che Juventus-Inter sarà il 3 aprile e speriamo naturalmente alla sera di avere in campo Lautaro. Settimana di nazionale, ma settimana in cui si discute soprattutto di Di Bala, insomma la notizia era nell'aria, l'avevano un po' capito tutti, che a un certo punto la Juventus stanca di, anche se ha appena segnato, ma vedete che è proprio la dimostrazione lampante di quello che dico sempre, l'ha detto ai lavori, non prende la decisione, come spesso fa il tifoso sull'onda dell'ultimo gol, per di più alla Salernitana. Di Bala, insomma, l'addio di Di Bala era abbastanza già stato segnato da alcune picconate che gli aveva dato arriva bene quando era arrivato e poi anche da richieste sempre più curiosose, che poi attraverso il procuratore Antun si era fatto sapere che erano diminuite, resta il fatto che insomma la Juventus ritiene di poter fare a meno di Di Bala nel suo progetto futuro e siccome la Juventus ha un progetto vincente, beh insomma se la Juve decide di fare a meno di Di Bala c'è un motivo. E naturalmente dove viene indirizzato Di Bala da molti esperti di mercato? All'Inter per l'anno prossimo in nome di una stima che però secondo me era cosa di due anni fa, che Marotta ha sempre avuto per Di Bala, ce l'ho avuto anch'io sempre la stima per Di Bala, non fraintendete, a me piace questo tipo di giocatore. Il problema è che l'Inter non si può permettere questo tipo di giocatore, quindi se la domanda è Gianluca vuoi Di Bala all'Inter? No, no, non lo voglio e a quanto risulta a me, ma poi le strategie possono cambiare, non lo vuole più nemmeno l'Inter, nel senso che è un'operazione così costosa dal punto di vista economico e non parlatemi dei soldi che risparmi dai cileni eccetera, perché questo è un altro paio di maniche, prima di tutto Di Bala non può godere del decreto crescita, quindi facciamo per assurdo, visto che chiedeva 10, che sia contenti del massimo ingaggio dell'Inter, Lautaro o Brozovic, vorrebbe dire che l'Inter tira fuori 14 milioni all'anno, mi pare una follia, all'ordo. Onestamente mi pare una follia, ma mi pare una follia anche per le poche partite che post-Covid Di Bala ha giocato, credo ne abbia saltate più di 30, ne abbiamo già avuto a che fare consensi, quindi ragazzi è un'operazione che io sconsiglio caldamente, basta innamorarsi del giocatore, meno male che stavolta avremo tutti quello che viene dalla Juve, non è brutto e quindi saranno contrarie a prescindere, ma non faccio un discorso così superficiale, così immaturo, so che l'ultimo simbolo della Juve che è passato di qua si chiama Antonio Conte e ha portato allo scudetto, quindi questo è un discorso cretino, il problema è che secondo me Di Bala in un contesto attuale come quello dell'Inter non va bene, se fosse ancora l'Inter di Moratti, se fosse ancora l'Inter che si poteva permettere il lussore Coba, il grande fantasista in un attacco ricchissimo e copertissimo potrei anche parlarne, ma purtroppo qua bisogna fare seriamente i conti con le spese, con il bilancio e vi confermo che già lo abbiamo visto l'anno scorso quando si è vinto, che se l'Inter non dovesse vincere lo scudetto il mercato sarà ulteriormente al ribasso perché mancheranno comunque i 20 milioni che comunque non sono bruscolini del titolo di campione d'Italia e quindi secondo me associare Di Bala all'Inter è una cosa che in questo momento non esiste, ma non come discorso che possiamo fare tra noi giornalisti, tifosi, mercatari come li chiamo io, non esiste nelle logiche imprenditoriali di una società come l'Inter e io credo anche che Marotta sull'onda di quello che ha visto, anzi che non ha visto negli ultimi due anni, possa anche onestamente aver cambiato idea ed essersi reso conto che portare qui, piuttosto riporto qua Sensi, lo dico veramente con grande sincerità, mi dispiace, il giocatore mi piace, ma secondo me tra i capricci, tra il rapporto che ha avuto con la Juve negli ultimi tempi, secondo me non è proprio il giocatore giusto. Con questo Di Bala non verrà mai all'Inter? Secondo me no, ma se poi a un certo punto dovessimo ritrovarci Di Bala all'Inter, perché è un parametro zero, è un parametro zero del genere ti fa gola, beh vorrebbe dire un'altra cosa, che tutte le strategie di mercato dell'Inter la prossima estate, che a me risulta siano completamente diverse da Di Bala e vorrebbe dire che sono andate male, perché a me risulta ad esempio che l'Inter continui a seguire Zapata, perché ritiene che Zapata dell'Atalanta possa essere il Lukaku che avevi l'anno scorso, a me risulta ad esempio che i contatti non siano stati totalmente interrotti con Turan, lo ricorderete c'era Turan prima di Correa, poi Turan si era fatto male, cioè per coprire il reparto d'attacco secondo me Di Bala è l'ultimo pensiero, ma proprio l'ultimo vorrebbe dire, ripeto, oltre ad un ingaggio onerosissimo che altre operazioni non sono andate bene. Quindi francamente siccome il dibattito è accesissimo, Di Bala continuerà ad essere accostato all'Inter, voi ricordatevi una cosa, la Juventus comunque sia con Allegri ha un progetto vincente che quest'anno non si concretizzerà almeno, spero, ma che dall'anno prossimo potrebbe invece concretizzarsi per gli investimenti che farà sul mercato e che ha già fatto, Vlaovic, Chiesa, tornerà. Se la Juventus decide di fare a meno di Di Bala è qualche ragione c'è, poi fa abbastanza ridere che il fratello Gustavo dica incredibile, probabilmente non è che dice incredibile perché non hanno trovato l'accordo, perché probabilmente la Juventus sia un po' stancata e non gli ha neanche fatto un'offerta e magari l'ha trattato male. Ragazzi però ricordiamo che Di Bala l'ha fatta un po' penare la Juventus, quando ha dato allo United loro volevano prendere Lukaku, per nostra fortuna Di Bala arriccio al naso, non voleva andare in Premier e noi siamo così riusciti ad avere la strada libera su Lukaku. Insomma Di Bala un po' di bizze le ha fatte e quindi a un certo punto la Juventus ha deciso di rinunciare a Di Bala e se la Juventus decide di rinunciare a Di Bala, beh ragazzi noi dobbiamo domandarci perché è avvenuta questa cosa e soprattutto non cadere nel trappolone di correre noi adesso a fare un'offerta a Di Bala che ripeto, grande giocatore da vedere, ma come dico sempre entrerebbe in un contesto che non è quello giusto. L'Inter di oggi non è il contesto giusto per Di Bala. Quindi vi saluto con questo. Di Bala? No grazie. Ciao e a presto ragazzi.